Grazie Alessandro Vercellotti, l'avvocato del digitale, per essere qui con me. Grazie a te, è un grande piacere. Allora, chi è Alessandro? È un amico, frequentiamo le stesse academy, più o meno, da un paio d'anni, e per cui ho visto anche crescere il tuo progetto. Lui è un giovane avvocato e ti sarai chiesto, appena laureato, come faccio a sfondare in questo mondo così saturo. E qual è stata la tua idea? Beh, intanto grazie per il giovane avvocato. Io avevo un grosso problema, quello di aver scelto una nicchia ben specifica, cioè il mondo del digitale, quindi tutte le aziende, tutti quelli che lavorano online, ma il mio grosso problema era come arrivare ai miei clienti, ai miei possibili clienti. Perché io posso essere bravo, capace, esperto in una materia, ma se rimane nel mio studio non serve a nessuno e nessuno mi viene a scegliere. Allora ho pensato di comunicare, come? Attraverso il video. Perché ho detto, se io faccio vedere la mia faccia, comincio a parlare, comincio a far capire come penso, cosa penso e come vorrei lavorare, come penso a una collaborazione, ho pensato che è la cosa migliore per portare un possibile cliente, farmi apprezzare e soprattutto capire le mie competenze. Esattamente, perché poi facendo così crei una specie di filtro naturale, nel senso che attrai, dimmi se sbaglio, le persone che sono allineate con i tuoi valori, con il tuo modo di lavorare, con la tua visione proprio della professione, giusto? Assolutamente sì, ti dico anche di più. Spesso il farmi vedere mi ha permesso di essere riconosciuto agli eventi, in giro, ma soprattutto anche la gente sa già cosa, penso, relativamente a un determinato argomento. Perché mi ricorda, ah ti ricordi che avevi detto il riferimento a quella domanda, avevi dato quella risposta e io, ah, non me lo ricordavo neanche io. Perché la gente si ricorda cosa dici, entra in comune nella visione e chiaramente chi la pensa diversamente non sarà comunque tuo cliente, ma chi la pensa come te si trova molto vicino, il video ti avvicina tantissimo. Anche perché il video, tu quando esprimi un concetto una volta in quel video, quel video resta, si cementa, quindi magari oggi lo guardano dieci persone, cento e fra un anno, se non è cambiata la normativa, un contesto legale in cui operi, quello che dici resta vero. Quindi la potenza, soprattutto in un caso come il tuo, diventi un broadcaster, diventi un media e riesci a veicolare i tuoi concetti con estrema facilità che se no, in maniera naturale, devi andare uno a uno a uno e parlare. Assolutamente, ti dico anche di più, anche laddove una normativa si evolve, c'è una nuova Cassazione, avere uno storico permette all'utente di vedere come si è evoluta la situazione giuridica, la fattispecie, quindi c'era questa norma, poi è cambiata, poi è intervenuta la Cassazione, è intervenuto il Ministero e c'è quindi un continuum della situazione. Quindi non è che il video diventa vecchio, sorpassato, semplicemente crea un collegamento fra i video successivi. Ok, come è stata l'evoluzione nella diffusione dei tuoi video? Cioè su quali canali hai puntato? Magari sei partito da Facebook o da YouTube e poi hai ampliato oppure ti sei spostato? Come ti sei gestito questo aspetto? Guarda, un po' in modo particolare, io ho fatto video su LinkedIn, quindi è una piattaforma che non nasce proprio per i video. In realtà avevo caricato gli stessi video su YouTube, però le mie micropillole da un minuto e mezzo, massimo due minuti, erano perfette per LinkedIn. Piccole pillole, un solo concetto per pillola, la gente mi seguiva, sottolineare solo un argomento per pillola permetteva di non perdersi, perché magari su LinkedIn un contenuto di 5 minuti, legale, sarebbe stato troppo, troppo, troppo pesante. E questo mi ha permesso di arrivare a tantissime persone. Io ho fatto video con costanza e la gente era abituata e mi è capitato una volta di saltarne uno e mi hanno chiesto come mai non è pubblicato, che è successo? Perché diventi un media dove la gente crea in abitudine e loro si aspettano di vedere il contenuto. Assolutamente sì. Un'altra cosa che ho notato dei tuoi video, hai una forte connotazione proprio stilistica di come... te la sei studiata questa cosa qua? Sì, assolutamente. Oggi sono in incognito, non il papillon, ma assolutamente. Giallo il papillon, vero? Assolutamente sì. Questo nasce chiaramente anche dalla mia professione. Tutti gli avvocati sono in giacca e cravatta. Ok. La giacca la metterò sempre, è un mio must. Il papillon è qualcosa di diverso, non ci si aspetta un avvocato col papillon, ancora di più con un colore un pochino anche d'accento come il giallo che un pochino colpisce rispetto al classico blu o nero e questo mi ha permesso di rimanere impresso nella gente. Poi anche una fisicità, diciamo, non passi in un servato, unisci le due cose. No, io quello che ho notato, scorrendo il feed di LinkedIn, sembra una stupidata, ma lui è col papillon giallo, lo noti. Lo noti. Se invece ogni volta questo video viene in un modo diverso, magari non ci fai caso. Però se io ti seguo e vedo il papillon, subito mi blocco lì e ascolto. E poi so che dura un minuto, un minuto e mezzo con un singolo concetto, quel concetto corrisponde al titolo. Se minimamente mi interessa, clicco e lo guardo. Quindi è molto forte questa cosa. Assolutamente. Infatti rimango in mente alle persone, le persone chiaramente sono abituate al contenuto e quindi entrano proprio in un rapporto in cui, nel momento in cui arriviamo alla consulenza, alla contrattualizzazione, è come se ci conoscestimo. Esatto. Spesso l'utente proprio mi conosce, sa come parlo anche, quando mi dice ah ma sei proprio come nei video. E passa, passa questo, è diverso invece vedersi per la prima volta, non ci si conosce, è tutto più difficile. Tu riesci subito ad entrare in empatia con la persona. Assolutamente. Perché quando quella persona arriva da te, sai già che ha fatto un pezzo di strada. Quindi, assolutamente sì, aver condiviso un pezzo di strada insieme è fondamentale. Poi per la riuscita. Allora, useremo sempre questo microfono, perché ce n'è solo uno a questo punto. No, dicevo sì appunto che quando una persona viene da te ha già fatto un pezzo di strada, per cui l'empatia parte subito. Assolutamente. Aver condiviso un pezzo di strada insieme, sapere come ragiono su un argomento, permette proprio alla persona e a me medesimo di capire subito dove vogliamo andare. Sanno come faccio una determinata attività, come la penso e come svolgerò il mio lavoro. E quindi facilita a me e facilita anche la scelta del cliente. Allora, abbiamo parlato dei video di questa empatia che nasce con i clienti, quindi ti ha facilitato l'approccio. Ma quali altri risultati hai ottenuto da questi video? Perché mi sembra di capire che comunque ti ha dato una visibilità molto buona in un settore. Magari ti ha fatto qualche piccolo, non dico nemico, ma qualcuno che all'inizio criticava un po' la scelta, ma adesso che cosa è successo? Beh, i risultati sono innanzitutto aver scelto una nicchia, essermi verticalizzato e poter oggi vivere di questa attività. Ti dico di più, oggi ho uno studio a Lucca, un secondo studio a Milano, siamo tre avvocati che lavoriamo solo di questa attività e tutto è nato da quei video. Cioè è palese, i miei contenuti sono stati video. I video mi hanno permesso di partire, in più ti dico, mi hanno permesso anche di essere apprezzato per eventi offline. Perché chiaramente vedere, ah, questo avvocato parla in questo modo, magari non troppo legalese, magari accessibile, ah, sai che ci piace, lo invitiamo al nostro evento. Quindi è stato sia una finalità commerciale, quindi vero e proprio fatturato, sia anche la possibilità di avere la possibilità di andare in eventi offline, anche importanti. Quindi direi che senza video non sarebbe stato possibile. Ok, l'ultima domanda che ti voglio fare è su le prospettive future, come pensi di organizzare la tua attività, cosa pensi che possano darti ancora i video e se ti sei fatto uno scenario a uno, tre o cinque anni. Allora, il passaggio che vorrei fare è da micropillola, quindi contenuto, diciamo, per social come possono essere LinkedIn, eventualmente Instagram, anche se per i video l'ho sempre utilizzato poco, ha un contenuto più lungo per YouTube. Quindi un contenuto che possa essere ricercato proprio perché tratta un argomento un po' più grande, quindi con una durata più lunga, quindi la possibilità di essere presente e ricercato anche su una piattaforma che oggi non padroneggio e comunque non presidio in modo particolare. Quindi i video sono stati il fondamento della tua autorevolezza pubblica e del tuo carisma. Quindi anche in questo caso, come le altre persone che ho intervistato per questo progetto, il video è stato un elemento di passaggio, nel senso dall'essere ignoti nel proprio settore, a essere conosciuti e poi a prodare a quello che veramente conta, che è l'offline, ed è la relazione fisica con le persone, negli eventi come stiamo facendo in questo momento. Noi siamo qua a un evento, ci siamo rivisti dopo un po' di tempo e tu mi hai raccontato queste bellissime cose. Ti ringrazio Alessandro, è stato un piacere intervistarti e ci vedremo presto. A presto.